Un grande onore per la città di Napoli avere la delega politica dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani su legalità e sicurezza. Innanzitutto per una forte iniziativa nazionale nel contrasto alla corruzione e alle mafie, soprattutto a quelle che sono penetrate all'interno delle istituzioni tutte e poi anche per attivare una profonda rivoluzione culturale nel nostro paese, una vicinanza ai servitori dello Stato che sono in prima linea esposti in diversi territori del nostro paese. Lo faremo con azioni sia simboliche, perché è importante schierarsi, sia con azioni concrete e con proposte anche normative che finalmente allontanino la retorica delle parole, con proposte efficaci che possano portare alla prevenzione della corruzione, a un sistema normativo molto più efficace. Alcuni dei temi su cui potremo lavorare sono proprio quelli che sono ribattuti in Parlamento adesso, la riforma della prescrizione, il tema del contrasto alla corruzione, soprattutto quando penetra all'interno delle istituzioni, il contrasto alle mafie. Collaborerà con l'autorità di Cantone? Collaboreremo con tutti, come è giusto che sia, con il Cantone, con le istituzioni, ma soprattutto vorremmo lavorare, questa è la mia idea, sul territorio. Lavorare per produrre quella rivoluzione culturale che è necessaria per sconfiggere le mafie, cioè fa schierare le persone e abbassare la soglia di indifferenza su questi temi che è ancora presente nel nostro Paese.